Eccoci qua, Allianz Stadium, Juventus Cagliari. Oggi è anche il mio compleanno, quindi diciamo che Adidas, quindi grazie mille Adidas, mi ha permesso di passare e mi permetterà di passare un compleanno abbastanza speciale, perché adesso andremo a fare, oltre a Walkabout, gireremo per tutto lo stadio di qua e di là, avremo la partita, avremo un sacco di cose, rimanete incollati, preparatevi perché ci saranno tantissime sorprese. In più ho portato mio papà per la primissima volta a vedere gli spogliatoi, lo porterò sul campo, quindi adesso dopo vi farò sentire anche un po' le sue sensazioni e incontreremo soprattutto i giocatori, quindi adesso andiamo dentro e ci vediamo dopo. Allora è la tua prima volta che stiamo percorrendo, è il posto che percorrono anche i giocatori, contento? Certo. Ecco, oggi faccio fare un'esperienza super, super, vedai che bello. Parcheggio dei bus. Adesso andiamo negli spogliatoi, eh. Spogliatoi. Sei tornato un po' giovane a vedere tutte queste foto. Madonna, vi hai visti tutti, praticamente tutti questi capitani. Scendiamo in campo, eh. Sì, sì, sicuro. Vai, 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 vai. E siamo in campo. Mamma mia. Spettacolo. Spettacolare, bellissimo. Dai, una sgruppata sulla fascia. No, una, una, avanti e indietro. Poi basta. Che dici? Andiamo sotto a fare le conferenze stampa, al posto di Tiago Motta. Sì. Vai tu, dai. Buongiorno. Parigi. Bilbao nel 77. Prima cui. Qua l'idea contro il Porto, la Coppa dell'Elecola. A Torino, Supercoppa Europea contro il Liverpool, quando nevicava forte. Allora adesso si mangia. Verso le 11 e mezzo dobbiamo scendere, andiamo a vedere il riscaldamento. 11 e 25, andiamo a vedere il riscaldamento. E speriamo bene. E adesso, in teoria, dobbiamo scendere in campo, vedere il riscaldamento. Vediamo. Sperando non piova, perché si è nuvolato. Adesso vi porto dietro, vediamo cosa va a succedere. Vi porto a vedere un po' di scaldamento da vicino, ma molto vicino. E siamo in campo. Ce l'abbiamo qua. Ce l'abbiamo qua. Adesso vedremo i calciatori veramente a mezzo metro e vi mostrerò un po' i particolari. Adesso vi faccio vedere. Guardi, la foto è composta. Bordieri in campo e adesso aspettiamo la squadra. Sono leggermente in ritardo, secondo me. perché non hanno mai fatto così poco riscaldamento. Vedremo. There you go! There you go! There you go! No, la tecnica ti viene a giocare con la volontà, la volontà c'è, quindi in caso Juventus Io sono manchi destro, non sono né capace né di destro né di mancino, però vado bene Dai lui corre, se sei uno che picchia qua ci siamo, contattaci Juventus 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 Patta Per il numero 29 Michele Di Gregorio Siamo in ritardo E adesso speriamo bene, cazzo Speriamo bene Cari tu Dai, dai C'è anche la coreografia oggi Un bel compleanno, deve finire bene oggi il compleanno Oggi deve finire proprio bene, dai Vai Savona Buono, buono, buono Calcio all'angolo coppia Bello Guagatone No Mar per possibile calcio di gole della Juve Vediamo cosa succede Dai E ora, e ora fallo Sblocchiamola subito Non sbagliamo Bisogna non scherzare Vai C'è anche la squadra Eccola qua Tira Che ciabatta Chico Pier Caluru Oddio Buono Un applauso Dai Go VAR per il Cagliari Vediamo cosa decidono Tigre Fammi sto regalo Partita finita Che peccato 1-1 E adesso Andiamo a incontrare i giocatori Vediamo com'è Com'è il loro rumore Speriamo di trovare Almeno un po' sorridenti Anche se Davvero dura Peccato 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 Ce l'hanno Sì Così La vista in alto L'ora Poi fare una foto Finisce dopo Sì Può fare una foto? Sì 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 Ti va tutto bene? Grazie Ciao Ciao Grazie 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 Sì Sì Oggi un po' Un po' Meno bene Però Sì 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 A Ciao Grazie 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 A A Fas Grazie. Ed è finita anche questa esperienza, siamo contro luce, chiediamo perdono, però il sole bacia i belli perché baci brutti perché i belli li baciano tutti. Ringraziamo Adidas per questa esperienza fantastica, per questo regalo di compleanno un po' particolare, ma molto ben gradito, molto gradito, ma molto ben gradito. Peccato per il risultato, però esperienza fantastica. Ragazzi, da me e dall'Allianz Stadium è tutto, un saluto, noi ci vediamo prossimamente. Peccato.